Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio, roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa. L'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la Fortezza Solitaria, mi sono recato personalmente nel mercato locale dove mi è stato suggerito un prodotto del TCG di One Piece che all'inizio non mi ha colpito molto ma poi procediamo con ordine. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia il Devil Fruits Collection Volume 1 del TCG di One Piece. La scatola si presenterà con una finestra trasparente che prenderà la maggior parte dello spazio frontale permettendo al consumatore così di visionare il frutto Gangam al suo interno con il titolo del TCG i loghi del produttore e dell'articolo subito sotto l'immagine di Luffy Leader dallo Starter 01 a fianco di un'altra finestra, questa volta più piccola che mostrerà sempre il frutto Gangam attraverso di essa sia sul lato destro che sinistro il solo nome del gioco e del prodotto sulla parte superiore ed il suo contenuto con tutte le informazioni legali del caso riportate sul dorso della confezione. Una volta aperta la scatola troverete una riproduzione fedele del frutto Gangam di Luffy due bustine di Kingdom of Intrigue ed una di Pillars of Strength uno dei due donne speciali che riporteranno rispettivamente due scene iconiche svoltesi la prima ad Alla Basta durante il combattimento dello stesso Luffy contro Crocodile e la seconda agli albori del romanzo dove si mostra un piccolo cappello di paglia che si incide da solo la cicatrice sotto l'occhio tratto distintivo che da quel momento lo renderà noto in ogni dove ed una delle due bustine per i donne che potranno o catapultarvi sempre ad Alla Basta dove Pell e Chaka sorvegliano vigili i territori sabbiosi regnati da vivi o mostrarvi una trama che riporterà un pattern ripreso proprio dal frutto Gangam protagonista di questa collezione. Bello vero? Niente male come prodotto anche se fino ad ora abbiamo esplorato solo il contenuto dell'articolo senza scendere troppo nel dettaglio analizzando le criticità nel complessivo e di aspetti negativi ce ne saranno. Partiamo dalle bustine che potrete trovare dentro il frutto Ebbene sono rimasto piuttosto perplesso per come sono state confezionate rischiando seriamente di rovinare le carte al loro interno ma non sarà da prendere in considerazione solo il lato giocato visto che chi colleziona booster pack qui non troverà assolutamente nulla date le condizioni del materiale che arriverà a destinazione Per il pool che ho ottenuto invece non è andata meglio calcolando che in tre pacchetti sono riuscito a trovare tre leader con conseguenti due rare a seguire ma nulla da eccepire fa parte del gioco Mentre per il già menzionato frutto è tutto completamente sbagliato Partiamo dalla struttura interna che a prima vista sembra realizzata con stampante 3D che ha una chiusura alquanto fallace che basta una piccola spinta verso il basso per separare le parti che può ospitare orizzontalmente 27 carte e non oltre data la sua conformazione del tutto errata che per lo stesso quantitativo di euro si può optare Per una Premier Ball Collection che proporrà un vero deck box bello e soprattutto sicuro? Sì, se questo fosse un vero e proprio portamazzo ma non lo è Già è descritto nero su bianco direttamente sulla scatola dove nell'elenco l'ultimo bullet point riporterà testuali parole Che tradotto in italiano suona del tipo Questo articolo è per bellezza Se ci metterete le carte dentro sarà vostro rischio e pericolo La cosa che mi ha spinto a leggere le informazioni riportate sul retro della confezione è stata che troppe mancanze per un vero e proprio deck box La chiusura inesistente Il prodotto che non convinceva assolutamente sotto diversi aspetti Funzionalità, sicurezza, accessibilità, struttura Tutto davvero molto sbagliato A tal punto che ad un tratto mi sono chiesto Bandai, ma fai sul serio? Al che dopo aver letto attentamente tutte le voci Ho detto Ah ok Allora va bene così Che poi concettualmente non è neanche pensato male Visto che sia le outer sleeve che i mini snap C'entreranno benissimo Sia orizzontalmente che verticalmente Poteva essere un deck box eccezionale date le giuste accortezze Ad esempio sarebbe bastato alzare le pareti contenitive lasciandole così ad angolo come sono Per permettere ai giocatori di inserire il deck come meglio avrebbero creduto Includendo anche un piano alla base per creare stabilità E fare lo stesso anche per il coperchio Eliminando però gli angolari Anche per il sistema di chiusura di opzioni ce ne sarebbero state molte Avvitandolo attraverso incastri con dentellatura magnetico Immaginatevi però se si fosse potuto chiudere semplicemente girando il picciolo del frutto Detto ciò una premessa qui è d'obbligo Se state cercando un deck box per poter sfoggiare ai local il vostro frutto del diavolo Questo prodotto non farà per voi Quindi converrà acquistare la collection? C'è da fare una distinzione La Devil Fruit verrà venduta ad un prezzo indicativo di 50 euro E il contenuto almeno al momento ne giustificherà a livello economico il costo Calcolate che i singoli don si troveranno su Car Market A cifre che si aggireranno attorno ai 16 euro di media per quello di Luffy Bambino E 14 per lo scontro ad Alla Basta Più 3 bustine di espansione per un totale approssimativo di 18 euro Ed il valore delle sleeve che non saprei quantizzarlo Quindi farò riferimento ad un prezzo comparativo di 10 euro Dove per bustine simili cambierà la quantità 70 invece che 10 Qui invece la reperibilità E il frutto Arconte? Ci stavo arrivando Questo prodotto ha solo un valore espositivo e nient'altro E infatti ripeto è stato pensato unicamente per questo E quindi quanto potrà essere valutato? Sempre attraverso stime comparative anche qui ci troviamo sui 10 euro Alla luce di tutto ciò il totale volendo gonfiare i prezzi sarà di 54 euro Al di sopra quindi del prezzo consigliato Tenendo sempre comunque in considerazione che Si sta parlando sempre di tutti i prodotti che possono essere sbustati Rigorosamente tenuti sealed Se vorrete poi aprire i booster lì come sempre vi affiderete alla fortuna E quindi rispondendo alla domanda Conviene acquistarlo La risposta o per meglio dire le risposte saranno Se siete dei giocatori soprattutto nuovi assolutamente no Per voi recuperare un triste di bustine da spacchettare costerà molto meno Mentre per chi colleziona e vuole un soprammobile che ricordi Uno dei frutti più iconici della serie da esporre in bella vista Magari arricchendo uno spazio dedicato che non aspettava altro che questo articolo Sì Come sempre comunque per chiunque vorrà acquistarlo testando con mano l'efficienza di questo prodotto In descrizione vi lascerò il link dove potrete acquistare la vostra copia personale Bene è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti Dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica Non appena sarò tornato dal mio girovagare A presto Grazie 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 Grazie